Fanno il loro ingresso il direttore della scuola normale superiore, professor Fabio Beltram, il vice direttore, professor Andrea Giardina, il preside della classe di scienze matematiche e naturali, professor Vincenzo Barone, il preside della classe di scienze umane, professor Giampiero Rosati. Prende la parola il direttore della scuola normale superiore. Bentornati, questa era la prima parola con cui volevo cominciare e lo faccio con piacere. Bentornati per la vostra forse ultima giornata di allievi del corso ordinario, ma ci siamo ancora, ci siamo ancora per oggi. Quindi prima di tutto bentornati a voi, bentornati alla scuola, bentornati anche i nostri ospiti, i vostri genitori, i vostri amici, sia qui sia in Sala degli Stemmi. È una giornata che scegliamo di vivere tra noi, soltanto i nostri ospiti d'onore, alcuni docenti, i vostri amici e parenti, ma che vogliamo vivere con la giusta solennità e quindi con tutte le parature dell'occasione per far capire che questa è una giornata importante. Importante non solo per voi, perché oggi in qualche modo diamo il sigillo a molti anni di lavoro vostro, ma anche nostro, e in qualche modo diamo senso a un certo numero di anni di vita della scuola. Perché tutto questo è stato costruito, funziona ed è pensato esclusivamente per voi, per gli allievi della scuola. E quindi una giornata importante. Vorrei ripercorrere con voi questi anni, non dirò tutte le cose che potrei dire, non temete, qualcosa dirò. Vorrei ripercorrere questi anni perché sono stati anni speciali, sono cominciati con il vostro venire a Pisa, siete arrivati da vari luoghi del paese e del mondo. Mi piace mostrare mappe del genere sempre, lo vedremo anche in questa chiacchierata per vedere qual è la vera dimensione della scuola, da dove la scuola arriva. Conoscendo i normalisti in generale, voi in particolare sono certo che avete già trovato almeno un errore in questa mappa, non ditemelo, non lo voglio sapere. Vi abbiamo prelevato da questi luoghi e portato qui. In realtà ve lo siete guadagnato, ve lo siete guadagnato in maniera notevole perché ognuno di voi è qui perché ha superato una ventina di altre persone, perché tra mille candidati ne abbiamo scelto una cinquantina, che siete voi, e quindi vi siete guadagnati un posto importante. Vi abbiamo portato a Pisa. Il motivo di avervi tutti a Pisa l'ha detto meglio di me una persona più illustre di me, che è Arnaldo Momigliano, che ci spiega qual è il vero motivo di successo della scuola normale, qual è il motore del successo del progetto formativo. E siete i nuovi voi stessi. Il vero primo ingrediente del successo del nostro modello formativo è il fatto che i normalisti vivano insieme, abbiano interazioni continue, siano stimolo uno per l'altro e per l'altra. È verissimo. Io lo dico sempre, anche per tenere il vostro io sotto controllo, che in università grande come la Sapienza, più di centomila studenti, come sapete, ci sono sicuramente altrettanti ragazzi bravi, quasi come voi, in quell'Ateneo, ma sono diluiti. Sono diluiti in una massa enorme di centinaia, di migliaia appunto di colleghi e non hanno modo di interagire, di scambiare, di stimolare la sua vicenda. Qui invece, ed è un unico mondiale, avviene questo. Solo persone di grande motivazione, di grande talento si trovano insieme, si trovano in una comunità con la possibilità di incontrarsi, parlare, scambiare idee in ogni momento, anche con dei docenti dedicati, motivati, che sanno l'importanza del vostro background e del vostro futuro. Neanche di questo parleremo oggi. Non vi abbiamo però pisanizzato né confinato a Pisa. Francesco. Questi sono i luoghi dove voi siete andati durante questi anni per programmi di scambio. Anche qui il solito editing della diapositiva, ma lasciamo perdere. Dovrebbero essere questi, o almeno anche questi. Questa dimensione internazionale, questa dimensione di scambio, è una componente importante del nostro modello formativo. Voi avete utilizzato questi, voi personalmente avete utilizzato questi scambi, ma nell'ultimo anno, pensate, qui questi sono gli scambi che sono avvenuti complessivamente alla scuola, quindi quelle linee collegano università o centri di ricerca da cui sono venute qui delle persone e allo stesso tempo delle persone da qui sono andate. Una comunità quindi internazionale, una rete di rapporti che è un altro ingrediente importante del modello formativo. Quindi non soltanto i corsi dell'università, non soltanto i corsi della scuola normale, non soltanto i seminari, i colloqui, le varie altre vessazioni, le lingue, gli esami, le tesine, eccetera, ma anche questi contatti, queste opportunità, questi modi di vedere altri mondi, altre esperienze, altre culture. Spero davvero che questo segno sia rimasto forte dentro di voi e che ve lo portiate, ma ho segnali positivi e incoraggianti in questo senso. In base allo stesso principio qui vi abbiamo offerto anche altre cose, concerti, incontri, ne avete organizzati anche voi attraverso sul forum degli allievi. Tutto un insieme di attività che sono servite a stimolarvi, darvi altre idee, altri punti di vista, oltre a darvi competenza, nozioni e conoscenza. Per alcuni di voi cinque anni, per alcuni di voi quelli che prendono oggi il diploma di secondo livello, due anni, ma anni intensi e anni speciali per voi e credetemi speciali anche per la scuola, non sono stati anni di ordinaria amministrazione quelli in cui voi siete stati qui. Non solo per la scuola ma anche per il Paese. Se allarghiamo un po' la prospettiva, pensate, mentre voi frequentavate il corso ordinario, ben quattro ministri si sono succeduti al governo dell'università e della ricerca. Ma non parliamo di cose tristi, parliamo invece della nostra realtà un po' più ristretta, parliamo della scuola normale, perché voglio che sia una giornata di festa e di gioia questa. Questa è la normale a Pisa, non è più di Pisa come sapete, questa è la normale a Pisa, queste sono le sedi principali intorno qui alla Piazza dei Cavalieri e sono stati anni di grande trasformazione. Voi in questi cinque anni siete invecchiati di cinque anni, anch'io lo ammetto, ma il corpo docente della scuola è ringiovanito di cinque anni, l'età media è calata di cinque anni. Un piccolo segno simbolico di un ricambio, di un ringiovanimento e di un cercare esperienze nuove. Non elencheremo tutte le novità di questi anni, ma alcune sì, perché voi potrete dire io c'ero quando parlerete di vostri anni normale. La normale ha aperto una nuova sede, una sua nuova articolazione, l'Istituto di Scienze Umane e Sociali ed è sbarcata a Firenze, in un palazzo stupendo, Palazzo Strozzi, che vedete in queste immagini. È stata una scelta non facile, che ha provocato le ovvie relazioni, ovvero reazioni. Tutti i giornali di Pisa hanno detto Firenze scippa la normale a Pisa, tutti i giornali di Firenze hanno detto Pisa sbarca a Firenze e occupa gli spazi. Noi siamo andati avanti, siamo andati avanti con il nostro progetto di ingrandire la scuola, diversificarla, dare una visibilità internazionale ancora più grande. Una cosa da cui voi state traendo e trarete sempre di più beneficio, ma anche su questo ritorneremo. Sempre a Firenze abbiamo aperto una residenza molto bella, intitolata Aldo Capitini. Tornando qui su Pisa sono successe molte cose dal punto di vista degli spazi. Il palazzo in cui siamo, il palazzo della Carovana, è cambiato drasticamente. Forse voi ve lo ricordate. quando voi siete entrati, per esempio, questa era la Sala delle Vittorie. E questa è oggi la Sala delle Vittorie. Avete preso il caffè nella Sala del Gran Priore, che era questa. Beh, oggi avete visto invece è così. È cambiata l'aria dentro la scuola e l'ha fatta cambiare anche la presenza dell'arte contemporanea all'interno dell'edificio, che è diventato un luogo più inclusivo, un luogo più vivace, più moderno, dove ci si rende conto che è successo qualcosa, è avvenuto qualcosa in questi anni, in questi anni, dico nei duecento anni di storia della scuola normale. Ma sono successe delle cose importanti dal punto di vista strutturale. Abbiamo acquisito questo palazzo dove si sta ingrandendo la nostra biblioteca. Un investimento molto importante, qui ci ha aiutato la regione toscana, ma un investimento molto importante dal punto di vista della scuola, che ha investito molto sulla ricerca in tutte le sue forme. Quindi in primissimo luogo sulla biblioteca, che è uno strumento essenziale di lavoro per tutti quanti noi, ed è per voi è stata la casa probabilmente in questi anni. Abbiamo sistemato anche un'altra casa, in cui alcuni di voi hanno alloggiato. Ce n'era veramente bisogno, no? Ma adesso può andare. Abbiamo investito anche molto in quest'altro edificio, che è l'edificio dove la scuola normale è nata. Questa è la sede granducale della scuola normale superiore. La normale napoleonica aveva sede in quel complesso, che era un convento, si chiama Compendio di San Silvestro, che ora sta diventando il polo scientifico della scuola normale. Via sede del laboratorio di nanoscienza, di biologia, si sta spostando l'attività di chimica computazionale e altre attività verranno spostate in quella realtà. investire molto nella ricerca fa parte del nostro programma formativo per voi. Io lo ripeto sempre, ma è un concetto che è importante e voglio che passi sicuramente questo messaggio. Spero che a consuntivo potrete confermare che è vero quello che sto dicendo. La scuola ha l'obiettivo di non insegnarvi a imparare le cose nuove, le cose note, perché quelle con tutto il rispetto dell'importanza dei manuali e il compito dell'università. La scuola si pone l'obiettivo più ambizioso di affiancarvi nell'imparare ad affrontare i problemi di cui non è nota la soluzione. oggi si parla di problem solving in inglese, ma la normale ce l'ha nel DNA perlomeno dalla seconda metà dell'Ottocento. Questo tipo di preparazione è un tipo di preparazione che nell'esperienza di chi vi ha preceduto, e speriamo anche nella vostra, si rivela prezioso perché è spendibile in contesti molto diversi. Perché si impara un metodo che è utilizzabile in contesti anche apparentemente lontani dalla propria disciplina di diretto interesse. L'esempio che facciano sempre, perché il più facile, è quello di Carlo Azzelio Ciampi, filologo che ha fatto il governatore della Banca d'Italia e poi altre cose. un aspetto che lui ha sempre detto è stato come sia stato determinante il tipo di studi che ha svolto qui per svolgere anche quell'attività. E di questo siamo naturalmente molto orgogliosi. Tutto questo lavoro nella ricerca, nell'aprire la scuola verso l'esterno, ha avuto anche un impatto misurabile, se guardiamo quello che le agenzie di rating dicono della scuola normale. E questo è veramente importante, non soltanto perché vogliamo avere un altro bollino da mettere nel nostro palmarès, non è questo il punto, ma il punto è che se la scuola deve essere visibile a livello internazionale. Se vogliamo che un ragazzo, una ragazza brillante della Siberia venga qui a studiare e non cerchi invece di andare a Harvard o all'MIT, come avviene di solito, dobbiamo dargli gli strumenti di visibilità e di accesso a noi. E in questo mondo, in questo momento, avviene così. Avviene che, come voi avete fatto, alcuni di voi, per cercare il luogo giusto dove andare a proseguire la vostra formazione dottorale, questi ragazzi vanno in rete e cercano i posti migliori dove andare a studiare. La scuola normale è, a questo punto, finalmente, in queste gradatorie, sempre nei posti migliori, appunto, e ce ne siamo accorti, ne parleremo tra un istante. Ho parlato ogni anno della per capita performance della Shanghai University. Questa è la classifica fatta dall'Università Chaotong, che è quella che ha più visibilità a livello internazionale. Noi guardiamo la versione che è normalizzata per la taglia, perché dobbiamo competere, perlomeno ad armi pari. La scuola normale è piccola, competere con un'università cento volte più grande, senza tener conto della taglia, è ovviamente tecnicamente impossibile, ma se andiamo a cercare la graduatoria per capita, quindi che tiene conto di l'intensità di produttività degli Atenei, questi sono i primi sei Atenei a livello mondiale. In Europa c'è soltanto la scuola normale e l'econormale. Negli Stati Uniti ci sono i nomi che già avete in mente, Caltech, Harvard, Princeton, MIT. La speranza nostra è che almeno voi abbiate automaticamente in mente, naturalmente la scuola normale è superiore, perché così è così da qualche anno, quindi dobbiamo cominciare ad abituarci a questo concetto, a questa equivalenza. Il secondo sistema di rating internazionale che viene molto ascoltato in questo periodo è britannico, è il Times Higher Education, la scuola normale è il primo Ateneo italiano, ma ci interessa guardare forse più le specificità, perché loro fanno anche un rating tematico. Quindi se cerchiamo tra le prime cento a livello mondiale, quali sono gli Atenei italiani presenti nell'ambito delle scienze, loro le chiamano Physical Sciences, ma intendono Fisica, Matematica, Chimica e Informatica. Non c'è soltanto la biologia della classe di scienze, perché stai in un altro raggruppamento, non vogliatemi. Se guardiamo Physical Sciences, tra le prime cento c'è soltanto la scuola normale nella graduatoria, nella posizione 38 a livello mondiale. Una qualità, quella della nostra attività in ambito scientifico, che è confermata anche dallo Shanghai Rating, invece. Qui, per quelli di voi che hanno fatto Fisica, Chimica, credo che ve la potete vendere. Nell'indicatore top, tra l'altro nome molto evocativo, è l'indicatore top, che indica la qualità dell'attività di ricerca, che loro misurano valutando la percentuale di lavori in certe riviste prestigiose, ma insomma poco importa, sono dettagli tecnici. Nell'indicatore top, che indica qualità, il primo Ateneo del mondo è la scuola normale. Quindi, numero uno, rivendetela, mettetela nel curriculum, perché voi avete contribuito a questo risultato, perché anche i vostri lavori sono entrati in quel tipo di valutazione. Se passiamo invece alle scienze umane, e di nuovo cerchiamo i primi cento, qui va un po' meglio per l'Italia, perché ci sono tre Atenei, ma c'è la scuola normale superiore, che è quello che a noi interessa di più. Quindi, una presenza, quella della scuola a livello internazionale, di alta visibilità, di alta qualità, misurata in questi termini dalle agenzie che contano. Questo, ripeto, ci fa piacere, ma soprattutto, si vede qui, guardate come evolvono le candidature alla scuola, anche per effetto di questo tipo di rating. Se guardate gli ultimi anni, vedete che il numero è quasi raddoppiato, da quando voi siete entrati qui, è quasi raddoppiato il numero delle domande. La parte fondamentale di questo aumento viene proprio dall'estero, da ragazzi e ragazze che vogliono venire qui a completare i loro studi con un percorso di tipo dottorale. E questo è frutto inevitabile di questo tipo di notizie che si spargono sulla rete e che fanno capire che questo è un luogo dove si fa attività di qualità. Dopo che l'abbiamo visto e che siamo confortati da questo, possiamo anche ricordarci dei nostri allori precedenti, dei Nobel, di tutte le cose che sono avvenute. Mi raccomando, ci aspettiamo almeno un paio di Nobel da voi, perché ci servono per il rating, non dimenticatevelo. E anche in fretta perché non mi ricordo l'intervallo temporale che avete. Va bene anche una medaglia Fields, comunque, eventualmente. L'effetto di questo è che se noi guardiamo la scuola normale di oggi, è una realtà molto variegata. Questi sono i paesi da cui provengono gli allievi del corso di perfezionamento della scuola che sono entrati quest'anno, nel 2015. Questo è l'ambiente dentro il quale si vive alla scuola e questo tipo di dimensione internazionale si vede anche nelle scelte che voi avete fatto e state facendo. Questi sono i luoghi dove alcuni di voi, anzi, dove sostanzialmente tutti voi, state proseguendo i vostri studi con gli studi a livello dottorale. Ognuno di questi pallini è uno di voi. Siete sparsi per il mondo. Non me ne vogliano le vostre famiglie. Noi ne siamo contenti. Ne siamo contenti perché la sequenza di queste due immagini è la motivazione per il fatto di questa notte di essere soddisfatti. Alla normale non c'è fuga dei cervelli. Alla normale c'è un flusso di cervelli che è fisiologico. I nostri allievi in parte scegliono di continuare i loro studi qui e noi siamo felici. In Italia, ma anche all'estero, in Europa, negli Stati Uniti, dove trovano il luogo giusto per continuare la loro formazione. Noi non ci sentiamo depauperati da questo, anche se un po' ci dispiace. Non ci sentiamo depauperati perché contemporaneamente altri giovani, altrettanto brillanti, dall'estero vengono qui per mantenere questa una comunità vivace, varia e piena di persone notevoli e interessanti come siete voi. Certo, noi speriamo che questo valga anche per il dopo. Noi speriamo che, come la normale manda i propri allievi all'estero per continuare gli studi e riceve nuove persone dall'estero per lavorare qui, speriamo che anche il nostro Paese sappia riportare voi qui per utilizzare le competenze ulteriori che avete acquisito all'estero e non sia vittima invece di una perdita di competenze. I normalisti sono un'opportunità straordinaria per il nostro Paese, un'opportunità di crescita culturale, scientifica, di innovazione, di ricchezza, nel senso più ampio e nobile del termine per questo Paese. Non ho purtroppo la serenità di dirvi che il nostro Paese lo sa e utilizza queste competenze tanto quanto dovrebbe e potrebbe. Quello che noi possiamo fare è continuare a garantire la qualità della preparazione dei nostri allievi, continuare a fornire un marchio di qualità che non ha uguali. Noi ci sentiamo di certificare la competenza, la serietà, la motivazione di ognuno di voi e per questo ci completiamo con voi, ci complimentiamo con le vostre famiglie e continuiamo incessantemente a ripetere in tutte le sedi che l'investimento che il Paese fa sulla scuola normale, che è un investimento dal punto di vista finanziario importante, è un investimento che deve poi far fruttare, far valere per la crescita di questo Paese. Noi lo ripeteremo sempre e speriamo che sempre più possiamo essere soddisfatti di come questo nostro messaggio viene accolto. E su questo augurio per un futuro, anche in Italia, non necessariamente, ma anche in Italia per voi, al massimo livello, per realizzare anche dal punto di vista lavorativo le vostre potenzialità che noi sappiamo essere straordinarie e su questo augurio dicevo che avviamo la consegna di diplomi rinnovandovi le congratulazioni mie come direttore protempore della scuola e di tutto il corpo docente della scuola e di tutta la comunità della scuola, perché di una comunità si tratta come voi ben sapete. Quindi grazie e ancora congratulazioni. Vi ringrazio molto. Primaverso la cerimonia continua con due interventi di due ragazzi, se ho capito bene, uno della classe di lettere e una classe di scienze, che io conosco molto bene. Ho una certa preoccupazione in particolare per uno dei due e tutti sanno di chi sto parlando. Non fare quella faccia, Francesco. E quindi do la parola a loro perché ci portano un messaggio della classe del 2015, come si dice, alla fine di questa avremo poi la vera consegna dei diplomi. Grazie ancora. Prende la parola Francesco Morosi, rappresentante degli allievi della classe di scienze umane. Buongiorno a tutti. La cerimonia di oggi segna la conclusione di un percorso di formazione intenso. Alcuni anni fa la scuola normale ha dato a tutti noi un'opportunità unica. In queste aule abbiamo intrapreso un processo di crescita umana e intellettuale, abbiamo incontrato ottimi colleghi e soprattutto ottimi amici. Perciò, per prima cosa, desideriamo esprimere alla scuola, in ogni sua componente, tutta la nostra riconoscenza. Ci lega a questa istituzione un vincolo di gratitudine fortissimo. E' proprio questo vincolo a motivarci alle osservazioni che vorremmo condividere con voi. In questi anni abbiamo visto la scuola intraprendere una strada di rinnovamento. Del resto, questa è la sfida che la normale ha davanti a sé. Cambiare, adattarsi a un mondo in costante evoluzione, ma restare se stessa, preservare cioè le prerogative che la rendono speciale. Come dice il suo motto, tradizione e innovazione. E' proprio di tradizione e soprattutto di innovazione che vogliamo parlare questa mattina. La nostra esperienza, infatti, ci insegna che la scuola potrebbe e dovrebbe essere più coraggiosa. Alcuni aspetti della sua struttura e della sua missione andrebbero difesi con più convinzione, altri andrebbero rinnovati con più forza. Oggi celebriamo certamente il lavoro, i risultati, l'unione di noi allievi e dei nostri docenti. Ma non dimentichiamo che se siamo qui oggi è perché la scuola normale ha, al cuore della sua natura, delle sue attività e della sua comunità, un istituto unico al mondo, il Corso Ordinario. Decine di ragazze e ragazzi sono selezionati ogni anno sulla sola base del loro talento e delle loro potenzialità. Vengono portati a Pisa, sono ospitati nei collegi, vivono e lavorano insieme. Ogni anno la normale sceglie il suo futuro e ogni giorno lo alimenta con un dispendio di risorse che non ha pari in Italia e in Europa. Questa è la nostra più grande fortuna. La normale ha concesso a tutti noi l'occasione di crescere insieme e in completa autonomia. Vorremmo che questo privilegio fosse riservato anche a chi è venuto e verrà dopo di noi. Registriamo con soddisfazione i passi in avanti fatti in questi mesi. Oggi la normale ha un nuovo regolamento didattico e ha definito meglio, in una direzione che ci sembra promettente, il rapporto tra il Corso Ordinario e i corsi di perfezionamento, ribadendo l'assoluta centralità del primo per la sua missione formativa. Ma vorremmo insistere ancora almeno su un aspetto. Il regolamento non dice ancora con sufficiente chiarezza che ciascun allievo deve poter coltivare i propri talenti in piena autonomia, scegliendo liberamente dove indirizzare i propri studi e da chi farsi guidare, anche al di fuori della scuola. A questo proposito la sinergia con l'Università di Pisa è essenziale e anzi è quello che ha permesso a molti di noi di essere qui stamattina. La scuola normale ha senso per i suoi allievi solo se riconosce in loro potenzialità da incoraggiare e non da nascondere, solo se si fa strumento di apertura verso l'esterno. È questa disposizione di apertura verso il mondo che deve, a nostro giudizio, segnare il futuro della scuola normale. In merito vorremmo affrontare due temi che ci sembrano cruciali. Il primo riguarda la vocazione internazionale della scuola. In questo la normale fa molto, lo abbiamo visto, ma non abbastanza. Siamo orgogliosi che nelle classifiche la scuola primeggi se si considerano le dimensioni relative. Ma quando noi allievi competiamo fuori dall'Italia non possiamo permetterci il lusso di farlo a livello relativo. Se vogliamo ottenere quello che ottengono i nostri coetanei all'estero dobbiamo competere con loro a livello assoluto. E come si può fare? Per prima cosa dovremmo fare rete. Centinaia di ex normalisti sono sparsi in tutto il mondo e l'abbiamo visto. Sono impegnati nelle professioni più varie. A loro per primi dobbiamo rivolgerci mantenendo i contatti, aggiornandoci costantemente sulla loro carriera chiedendo aiuto e collaborazione per fare conoscere la scuola e il valore dei suoi allievi anche dove non sono noti. Tutte cose queste che le università migliori fanno già e che la scuola non fa ancora. I normalisti possono essere una risorsa per la normale anche dopo la cerimonia dei diplomi. Ugualmente importante è a nostro parere rafforzare la partnership tra la scuola e le università straniere. Oggi per uno studente una buona rete di rapporti con l'estero è fondamentale già al termine della laurea magistrale. Eppure i normalisti del corso ordinario viaggiano ancora troppo poco e così i soggiorni presso università straniere sono raramente parte integrante della loro formazione. Ciò avviene anche e soprattutto perché gli allievi sono disincentivati anziché essere spronati a fare esperienza fuori dall'Italia. Le cause sono molteplici. Un'offerta e un servizio non sempre all'altezza, un atteggiamento del corpo docente troppo spesso refrattario a linee di ricerca diverse da quelle praticate alla scuola, infine e soprattutto un'organizzazione degli obblighi interni incoerente. In effetti è piuttosto complicato mantenere la frequenza obbligatoria a seminari annuali e al tempo stesso trascorrere un anno o sei mesi all'estero. Crediamo che occorra dare agli studenti la possibilità concreta di studiare fuori dall'Italia. Alcune lievi e ragionevoli modifiche all'assetto degli obblighi didattici potrebbero dare i giusti frutti, consentendo ai normalisti di conoscere e farsi conoscere prima e meglio. In questo la scuola non deve essere timida. Spingere i suoi allievi a creare fin da subito ponti con altre realtà accademiche non è segno di debolezza e tra l'altro contribuirebbe a un processo di rinnovamento degli indirizzi della ricerca innormale che oggi ci appare quantomeno urgente. Il secondo tema che ci sta davvero a cuore riguarda il servizio di job placement. Purtroppo dopo le osservazioni dei diplomati dello scorso anno quasi nulla è cambiato. I diversi tentativi di riforma di questi ultimi tempi infatti non hanno prodotto risultati degni di nota e lasciano la scuola e i suoi allievi davanti a un paradosso. Come può una formazione di così alta qualità produrre risultati così mediocre nel mondo del lavoro? Quando arriviamo alla fine del nostro percorso a Pisa noi normalisti siamo spesso lasciati soli. Non è uno spreco investire così tanto sull'ingresso degli allievi e così poco sulla loro uscita. In un periodo come questo in cui la carriera accademica è sempre più difficile da percorrere e in cui i sogni e le ambizioni dei suoi allievi si fanno sempre più diversificati la normale dovrebbe aprirsi a una piccola rivoluzione culturale. Accettare che il lavoro nella ricerca universitaria non è l'unico possibile e non necessariamente il più nobile. I normalisti che vogliono cercare altre strade non sono normalisti sbagliati ma normalisti che conoscono il valore della formazione che ricevono alla scuola. Una formazione poliedrica, anticonformista, un'abitudine a pensare in profondità. Questi normalisti vanno cercati, incoraggiati, affiancati sin dai primi anni del corso ordinario in un processo complesso. Oggi tra curricula e human resources valorizzare il proprio talento e la propria originalità è un'impresa che può rivelarsi improba. Ma conviene prima di tutto alla scuola aiutare i suoi allievi. I prossimi anni, infatti, riservano alla normale una prova decisiva per la sua vocazione. Rimanere soltanto un piccolo centro di ricerca pur di eccellenza in una piccola città, in un piccolo paese oppure aprirsi al mondo, ribaltare il falso pregiudizio dell'autosufficienza accademica e tornare a fare sentire la propria voce, formare studenti che possano e vogliano incidere sulla società di domani. Se, come ci auguriamo noi, opterà per questa seconda via, la scuola dovrà necessariamente potenziare il suo servizio di placement, renderlo proattivo, persino aggressivo. Per farlo servirà a mettere in campo risorse umane, economiche e di progettazione molto superiori a quelle di oggi. Servirà anche immaginare un percorso di formazione più completo che continui a fare della ricerca il suo fulcro, ma si apra anche a esperienze diverse per valorizzare la creatività dei normalisti e la loro originalità. Per dialogare con un mondo nuovo servono strumenti nuovi e talvolta anche insoliti. Insomma, il futuro ci chiama a una sfida che non possiamo perdere. Vorremmo che la normale avesse ancora una volta nella sua storia il coraggio di accettare questa sfida, cambiare restando se stessa, innovare le strutture, gli obiettivi, le strategie per rimanere quello che è sempre stata. Una comunità che si perfeziona e cresce nella convivenza quotidiana, nella ricerca e nel lavoro costanti, in una speranza personale e collettiva. La speranza che ci lega oggi e confidiamo ci legherà sempre. Grazie. Applausi Prende la parola Federico Stra, rappresentante degli allievi della classe di scienze matematiche e naturali. Cari presenti, è per noi motivo di grande felicità tornare nella città di Pisa e in particolare tra queste mura che ci hanno visti crescere come studenti e come persone. È altresì un piacere poter condividere questo momento celebrativo e di riflessione finale con familiari e amici che ci hanno sostenuto e incoraggiato lungo tutto il percorso. Siamo orgogliosi di essere qui a ricevere il diploma di licenza da una scuola prestigiosa di cui siamo fieri di aver fatto parte. Vogliamo ringraziare gli organizzatori di questa giornata e in particolar modo il corpo docente che ci ha seguito con dedizione durante questi anni. Vogliamo anche esprimere la nostra gratitudine a questa istituzione unica che ci ha permesso di completare un percorso universitario di eccellenza senza oneri economici per le nostre famiglie. In un contesto nazionale in cui l'istruzione universitaria e la ricerca scientifica sono cronicamente sottofinanziate la normale riafferma il principio democratico secondo cui un'istruzione di qualità va da offerta a ciascun cittadino indipendentemente dal contesto socio-economico da cui proviene. Proviamo quindi a maggior ragione gratitudine e rispetto per tutti coloro che hanno reso possibile l'esistenza della scuola normale come l'abbiamo conosciuta negli anni in cui vi abbiamo vissuto. Alla luce di queste premesse e per mantenere la tradizione ci sembra opportuno condividere alcune brevi riflessioni sul nostro percorso nella scuola e su come pensiamo possa essere migliorato a beneficio degli studenti che lo affronteranno nei prossimi anni. Una prima questione riguarda la dicotomia fra didattica e ricerca. La scuola normale si trova nella difficile posizione di dover coniugare la sua natura originaria di scuola di eccellenza votata quindi alla formazione con il suo attuale status di centro di ricerca di rilievo internazionale. Nella nostra esperienza questi due aspetti sono risultati spesso non efficacemente integrati talvolta un po' separati. Considerato il numero limitato degli studenti della scuola in rapporto alla presenza e alla qualità di professori e ricercatori questo potrebbe essere il luogo ideale per implementare un modello didattico meno tradizionale e più dinamico. Fin dai primi anni i corsi impartiti dalla scuola potrebbero snellirsi e concentrarsi maggiormente su problem solving e attività seminariali complementando più accuratamente la solida istruzione fornita dall'Università di Pisa. Inoltre gli allievi potrebbero trarre giovamento da un avvicinamento anticipato e progressivo al mondo della ricerca basato su una maggiore interazione con professori ricercatori e perfezionanti fin dai primi anni. Questo è ciò che accade nelle migliori università internazionali quelle con cui la normale ambisce a competere nei ranking globali della ricerca scientifica. Questa riflessione ci porta a un altro tema per noi importante il rapporto fra formazione e selezione. Come tutti sappiamo il corso ordinario deve parte del suo prestigio e del suo successo al severo processo di selezione in ingresso. Se da un lato la selettività in ingresso è una virtù della scuola occorre però notare che essa rimane un aspetto centrale del percorso innormale anche dopo l'ammissione. noi riteniamo che l'obiettivo di formare buoni studenti non vanda perseguito continuando a selezionare in maniera sempre più stringente escludendo prematuramente chi incontra delle difficoltà ma fornendo agli allievi l'ambiente e gli strumenti per sviluppare al meglio le proprie potenzialità. Come conseguenza dell'attuale approccio reiteratamente selettivo abbiamo visto diversi nostri colleghi sulla cui formazione la scuola aveva già molto investito interrompere il loro percorso innormale preferendo proseguire la loro istruzione presso altrettanto prestigiosi istituzioni estere. Riteniamo che questa sia stata una severa perdita per la scuola e per noi perché ha comportato un impoverimento dell'ambiente culturale che tanto caratterizza la normale. Vorremmo infatti sottolineare come sia stato fondamentale nella nostra esperienza vivere in una comunità pollulante di persone motivate e interessanti dotate di onestà e vivacità intellettuale oltre che di una straordinaria curiosità. Il carattere collegiale della scuola favorisce la condivisione e lo scambio di idee sia all'interno dei singoli settori sia a livello interdisciplinare. Questo clima di dialogo e confronto è un supporto fondamentale per la formazione e favorisce lo sviluppo accademico e non degli allievi della scuola. A conti fatti è doveroso riconoscere che il bilancio della nostra esperienza fra queste mura è stato nettamente positivo. Fattori determinanti sono la qualità molto elevata dell'attività di ricerca e la presenza e disponibilità di docenti di esperienze e prestigi internazionali. Ciò consente agli allievi soprattutto negli ultimi anni di corso di crearsi un immenso bagaglio di conoscenze e competenze che per noi hanno costituito una solida base per il proseguimento degli studi. Desideriamo concludere con un sentito ringraziamento ai docenti della scuola per la loro dedizione nell'insegnamento e per averci trasmesso il loro sapere e la loro passione, al personale di supporto per aver agevolato la nostra vita quotidiana, ai nostri colleghi e amici per aver condiviso con noi questo percorso creando un ambiente stimolante e supportante, ai nostri familiari per averci seguiti e assistiti nonostante la lontananza e infine grazie alla scuola per aver reso possibile tutto ciò. ringrazio tutti voi, non solo Francesco e Federico. Un solo commento. Hanno ragione. Avete capito perché siamo orgogliosi di loro. Quindi quello che il direttore può fare è prendere questi documenti che ritengo preziosi, non solo utili, preziosi, farli circolare tra il corpo docente e forzare, spingere ulteriormente perché in questa direzione si vada. Avete sentito anche delle piccole sfumature di differenza del linguaggio, queste derivano dal fatto che in effetti ci sono delle differenze strutturali tra le due classi che in qualche modo abbiamo sentito riecheggiare in quello che è stato detto. Ma anche se potevano sembrare in contraddizione, avevano ragione entrambi. E quindi anche per questo li ringrazio e sono particolarmente felice di poter essere presente mentre gli verrà consegnato il diploma. Inizia la cerimonia di consegna dei diplomi. Classe di scienze umane, Martina Bottacchiari, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Niccolò Caminada, discipline filosofiche. Alessandro Capone, discipline storiche. Massimiliano Carloni, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Giovanni Casini, discipline storico-artistiche. Camilla Francesco Colombo, discipline filosofiche. Margherita Fantoli, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Carlo Ferrari, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Edoardo Galfrè, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Marco Iacovella, discipline storiche. Costanza Larese, Costanza Larese, discipline filosofiche. Francesco Morosi, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Ilaria Morresi, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Marta Mussi, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Silvia Piepoli, discipline filologiche, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Francesca Pirola, discipline filosofiche. Nicol Siri, discipline filologiche, discipline filologiche e linguistiche moderne. Lorenzo Tabardini, discipline filologiche, discipline filologiche, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Francesca Modini, discipline filologiche, discipline filologiche e storiche classiche. Ritira Francesco Morosi, Ritira Francesco Morosi. Ettore Morelli, discipline filologiche, discipline filologiche, Alberto Baillardi, chimica. chimica. Alvise Bastianello, fisica. Luca Battistella, matematica. Giulio Bresciani, matematica. Paolo Comaschi, fisica. Paolo Comaschi, fisica. Paolo Del Nin, scusi, Giacomo Del Nin, matematica, Matteo Ippoliti, fisica, Kirill Kuzmin, matematica, Ludovico Lami, fisica, Leonardo Patimo, matematica, Luca Alessandro Perego, chimica, Alessandro Ranalli, chimica, Luca Rigovacca, fisica, Aurora Savino, scienze biologiche, Federico Stra, matematica, Yinglei Zhang, fisica, Federico Vigolo, matematica, Dario De Santis, fisica, Lorenzo Ficorella, scienze biologiche, Lorenzo Guerra, matematica, Alessandro Malusà, matematica, La cerimonia è terminata, C'è un coffee break che da l'attrobat. Applaudissements Grazie